Per Bicisport e qui Bicisport siamo a Bilbao, al Guggenheim, presentazione del Tour. Gianni, Gianni Moscon, come stai intanto? Ormai non so più che da rispondere a questa domanda. Sto bene, poi lo vedremo nelle prime tappe, insomma, tra la facendo qual è la mia condizione in bici. Personalmente sto bene, però dopo tanti mesi in cui non riesci ad essere competitivo è difficile capire come stai, se puoi via fare dei risultati o meno. Lo vedremo, insomma, sono entusiasta di essere qui, abbiamo un grande obiettivo come squadra con Marco, aiuteremo lui soprattutto e poi se ci sarà la gamba qualche opportunità cercherò di coglierla. Senti, si può dire che in Astana un po' si è invertita la rotta, tra la vittoria di Marco a Roma e il campionato italiano di Velasco, finalmente è un bel momento per voi. Sì, assolutamente, devo dire che abbiamo ottenuto dei successi importanti in queste ultime settimane, speriamo di continuare il trend e sulle ali di entusiasmo continuare a, sì, perché no, a vincere. Senti, con che ruolo sei al Tour per Mark Aven? Dice, sappiamo che andate molto d'accordo, no? Sì, assolutamente, insomma, si è creata una bella alchimia, soprattutto dal Giro e qui cercheremo un po' di portare avanti il lavoro che è stato fatto dal Giro. Lì erano le prime settimane in cui si correva insieme, quindi abbiamo dovuto un po' rodarci e qui al Tour proseguiremo il lavoro e abbiamo una squadra anche più strutturata per gli sprint. Magari riusciremo a essere anche più incisivi nei finali e comunque cercheremo di aiutarlo tutti i giorni, dalle tappe di salita, ovviamente per i velocisti bisogna anche portare la bici al traguardo e poi nell'etappe di volato ovviamente ci sarà la maggiore attesa, insomma, per noi, per il nostro lavoro e lì cercheremo veramente di non sbagliare. Senti, cosa vi dice Mark in questi giorni? Come lo vedi? Ma lo vedo molto tranquillo, insomma, con la giusta dose di anche tensione, però è un grande professionista, intelligente, grande calcolatore anche, quindi sta affrontando questi primi giorni metodicamente come fa sempre, insomma, e credo che, insomma, è pronto psicologicamente e anche di condizione. Senti, ultima domanda, Gianni, cos'è per te il Tour de France? Per me il Tour de France è una corsa di tre settimane, come lo è il Giro e come lo è la Welda, ecco. Ovviamente è l'evento principale del nostro sport, quindi essere qua comunque è una vetrina molto importante e anche un grande onore. Perfetto Gianni, grazie e in bocca al lupo. Grazie mille.